wow nuvole e isole volanti a perdita d'occhio sarà il caso di oddio non è il migliore degli spawn questo probabilmente stavo già per cadere oddio che cazzo è sta cosa merda salve chi è lei un guardiano del paradiso cosa ti aminiera quell'affare era forse ostile zephyr l'ho tipo shottato ma aveva già poca vita per qualche motivo era ferito le nuvole sono nuvole solide quindi posso anche spostarmi sulle nuvole però tipo sprofondo al loro interno quindi questo è il paradiso è strano visto così non direi mai che ci sia una persona malvagia che lo usa come propria dimora beh probabilmente è proprio nei posti più insospettabili che si cela il male però è davvero strano sembra così pacifico a parte per quell'essere zephyr che mi ha dato un'accoglienza tutt'altro che divertente e là sopra ce n'è un altro che non sembra avermi visto beh la prima cosa che dovrei fare è rintracciare hope lei è giunta nel paradiso quando io stavo per andare a donalim quindi è qui già da parecchio tempo potrebbe avere delle informazioni utili e simpaticone un altro a questo comitato d'accoglienza esistente comunque lei potrebbe avere già qualche info su dove si nasconde la regina d'altronde qui da parecchio tempo avrà già indagato la devo assolutamente trovare ma dove questo posto è così sconfinato e non ho idea di dove andare e va bene comincio l'esplorazione alberi su alberi e questi strani maiali alati fig che mi droppano carne celeste no carne normalissima ok quindi c'è una fonte di cibo anche qui dentro mi sono portato un sacco di cibo per nulla quanto pare sarebbe il caso di spostarmi su un'altra isola ma se iniziassi già a lanciarmi da ora rischierei di morire male e non ho il mio drago con me qui dentro quindi quindi ender pearl me le sono portate apposta d'altronde vai oh yes perfetto magari dalla punta di questo promontorio riuscirò a vedere qualcosa di più flying cow normalissime mucche che droppano normalissima carne suppongo beh sì però forse non dovrei uccidere tutte queste creature celesti potrei commettere un peccato non è la cosa migliore da fare nel paradiso anchor plant che sei una pianta carnivora sono curioso non fa nulla in realtà mi ha avvelenato alla faccia del non fare nulla eh aia nausea e poison perfetto ho la mela durata ma non la vorrei sprecare così e questo che cos'è high shore petal potrebbe servirmi per qualche crafting strano però potrebbe essere il caso di colpirti dalla distanza la prossima volta no cosa ne dici bam perfetto muori mi ha colpito lo stesso sputa veleno ok non ha contatto fisico e con questo affare ci faccio del cioccolato non è proprio quello che pensavo però ok la sotto c'è qualcosa un minerale molto particolare non ho mai visto qualcosa del genere potrebbe valere la pena di darci un'occhiata magari qualcosa di fortissimo allora ender pearl bam eccomi qui allora mi devo fare strada tra la roccia e magari mettere una bella torcia perché se no non ci vedo un piffero allora caro il mio minerale che cosa sei e dove sei eccolo preso zanite wow posso usarlo per fare armature e un anello attrezzi anelli altari e cose di questo tipo anche armi a quanto pare ok grows stronger una spada che diventa più forte sarebbe molto interessante farla ma qui non ce n'è altro quindi era una vena con un solo minerale a quanto pare ecconi dell'altro laggiù ok potrei addirittura farmi una spada e magari un'armatura se ne trovasse ancora oddio ci sono ancora questi strani zephyr non capisco se vogliono qualcosa da me se sono ostili o no però io nel dubbio ti uccido mi spiace amico ma sei abbastanza inquietante quando mi ronzi attorno dunque eccomi qui zanite 1 e 2 io ho qualora protegga più del diamante ma questa cosa non la so proprio dire andrebbe provata dunque crafting table eccola poi legno per fare i bastoni eccoli e poi la spada di zanite che non si fa così si faceva tipo così neppure che cosa sta succedendo mi ricordo che era una normalissima spada fatta in questo modo no zanite zanite gemstone sky root stick devo usare un legno apposito in realtà quindi forse questo sky root log ok direi che decisamente questo ok ho appena battuto un albero sacro spero che nessuno si arrabbi comunque dovrei riuscire ad ottenere il legno adatto per fare quello che devo fare quindi così quattro bastoni questi li posso buttare via e posso farmi questa benedetta spada eccoci qui ha l'abilità di diventare più forte non so bene cosa possa voler dire però la vorrei provare per cui andrà al posto di questa che sposterò momentaneamente qui sotto e cercherò di usarli in combo potrebbe funzionare ok ora però devo cercare di raggiungere un'altra isola dato che qui non c'era un granché ma come faccio ad arrivarci vediamo sarà abbastanza le ender pearl per arrivare là in fondo o forse dovrei andare prima su quella nuvola potrebbe fare il caso mio sì ok senza cadere vai un'altra è andata nel vuoto non sono abbastanza vicino ok in qualche modo sono arrivato in un'altra isola speriamo che qui ci sia qualcosa di più interessante a questo punto certo il panorama è molto bello però non trovo niente mi immaginavo di trovare una struttura almeno una casa come nella toilet forest un'accoglienza per i viaggiatori e invece non c'è assolutamente nulla forse dovrei cercare delle strutture tipo templi coniglietti salterini del paradiso cosa siete beh per essere nel paradiso quest'acqua sembra abbastanza stagnante non so se ci farei mai il bagno è troppo verde che schifo potrebbe essere una pozza di veleno oppla ok ricominciamo da qui ehi pecora blu non sei una vera pecora che cosa mi droppi non ho spazio per raccogliere niente no mi ha mai droppato normalissima lana siete pecore del paradiso anche voi strano che non avete le ali voi pecore siete proprio sfigate anche qui nel paradiso non avete le ali pensare che pure i maiali ce li hanno e anche su quest'isola nulla a parte questi stupidi affari devo continuare a spostarmi ma dove tipo lì sotto potrebbe essere un po' pericoloso ma non ho scelta vai ok e magari a questo punto dovrei andare da quest'altra parte ok ho appena trovato qualcosa potrebbe essere quello che cercavo effettivamente da quando sono arrivato qui non ho ancora trovato strutture solo questa uno strano tempio che non so dove possa portare perché quest'isola è abbastanza piccola potrebbe essere un minuscolo dungeon o forse un portale per qualcos'altro ok non mi resta che trovare una strada per arrivarci dunque potrei iniziare da lì e tipo aia da questa parte cercare di saltare su quella nuvola che non dovrebbe essere totalmente trasparente per cui non ne sono tanto convinto però potrei anche rischiare di morirci però ad altronde non ho scelta vai dai dai ok mamma mia ho tenuto il peggio per un attimo però a quanto pare non è del tutto trasparente ci affondo solo per metà e ora da qui dovrei essere perfettamente in grado di arrivare sull'isola eccomi qui questi slime sono parecchio strani perché sono colorati di colori diversi non siete normali slime sweat non sei neanche ostile per cui non ti farò nulla oh mio dio e questo che cos'è fa un suono veramente inquietante non è un dungeon è una sorta di altare un portale per qualcos'altro forse un luogo di pace di quiete in cui solo pochi mostri si sono dimostrate ostili e ora questo ora lo sento per la prima volta percepiscono a forte energia oscura in questa dimensione sì deve essere questo il posto il luogo dove lei si nasconde